L'Avellino inizia a fare sul serio e scalda i motori in vista della gara cruciale di domenica pomeriggio allo stadio Liguori di Torre del Greco, in casa della rivelazione Turris di Mr. Bruno Caneo. I biancoverdi di Braia questo pomeriggio hanno disputato un amichevole con la Primavera 3, allenata dal duo Iandolo-Biancolino. Il match è terminato 11-1 con le reti di Ricky Maniero, l'attaccante partenopeo ha siglato ed è stato l'unico una doppietta, poi in gol anche Plescia, Carriero, Messina, Gagliano, D'Angelo, Silvestri, Rizzo e Di Gaudio, infine anche un autorete. Per la Primavera 3 gioia per il classe 2005 Pio Danna. Maniero sia oggi che nell'ultimo match di campionato contro il Lucane di Colucci del Picerno è andata a bersaglio e adesso lancia la sfida aperta ai Corallini. Sfida già vinta nella passata stagione, quando sul rigore è mise fino alla contesa, portata a casa poi dai Lupi per 2-0. L'Avellino si aggrappa alla voglia di gol del bomber partenopeo, che finora non ha fatto vedere in Irpinia e a tutti i tifosi tutto il suo reale valore. E dunque la rivalza dell'ex cannoniere di Pescara e Bari e la voglia che ha di prendere per mano questo Avellino dovrà fare letteralmente la differenza, se si vogliono riaprire scenari e orizzonti di alta classifica in casa Avellino.